Quarto di finale di Master tra Piemonte e Lombardia e Mambo, Fidelis, Tori, Triazze, Prelazzi, Lombardia, abbiamo qua Vincenzo, allora Vincenzo. Era l'ultimo posto di competizione rimasta, infatti ti avvisse, ce l'avete messa tutta, adesso siamo nella prima parte di questa semifinale. Vi voglio fare i complimenti perché avete intrapreso proprio una gara, soprattutto a livello mentale, benissimo perché gli avversari erano tosti, quindi se la prima minuta avete cominciato a battagliare, i tre gol subito che sono arrivate avete bloccato la partita, quindi non c'è niente da dire, stasera l'avete meritato. Sì, infatti abbiamo fatto tutte le cose veramente nel modo giusto, noi c'eravamo perché è stata una partita solida, volevamo sfruttare le occasioni che avevamo avuto, anche perché l'ultima sconfitta abbiamo avuto la settimana scorsa, è stata veramente scottante, quindi siamo felici del fatto che questo risultato è veramente meritato, penso che è una partita giocata veramente bene. Adesso entriamo nelle prime quarti, nei primi quarti del torneo, penso da esordiente sia una bella soddisfazione. Assolutamente, un bel traguardo, ma noi sicuramente non siamo qui per fermarci, noi andiamo fino in fondo, anche perché cometto dell'ultima rimasta. Anche perché comunque abbiamo pensato, quindi arrivare in semifinale vuol dire che la squadra c'è. Assolutamente, anzi noi con loro avevamo già avuto una sconfitta nel girone all'ultimo minuto e sapevamo cosa andavamo incontro, eravamo preparatissimi diciamo a una battaglia, così è stato e sono contento che siamo riusciti a portarla a casa. E sono contento anche io per voi, ti faccio comunque i complimenti per la partita. Grazie, buonasera. Grazie.